Ciao, sono qui alle dune di Maspalomas. Guarda che meraviglia, sembra di essere in mezzo al deserto. E dall'altra parte c'è anche l'oceano. Bello, vero? Un angolo di paradiso. Faccio questo video per raccontarti una cosa che ho scoperto ieri. Una ragazza che anche nel gruppo mi ha scritto, mi ha contattata, e il suo nome è Catrien, mi ha raccontato una cosa molto molto interessante, che le Canarie rappresentano i sette chakra e quest'isola, Gran Canaria, rappresenta il chakra della gola. E ho avuto un lampo di genio, ho detto ma che meraviglia, sono qui a scrivere, quindi massima espressione, in un luogo che è connesso proprio al chakra dell'espressione. Quindi è magica questa cosa che è accaduta. E infatti voglio ringraziare Catrien per questa bella notizia, per la sua gentilezza, perché ci ha raccontato alcuni luoghi molto interessanti da visitare, e sarà un piacere incontrarla nei prossimi giorni. Voglio lasciarti un pensiero ora, che è questo. Quando tu ti lasci portare dal flusso della vita, a volte accadono delle cose magiche. E quando invece rimani fisso e bloccato nei tuoi schemi, ti impedisci di fluire e di accogliere i doni della vita, che possono essere nascosti proprio dietro l'angolo, dove tu meno te lo aspetti. Ti mando un abbraccio e ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao ciao! Ciao!